I finanzieri del comando provinciale di Padovan ha eseguito il sequestro preventivo di beni per un ammontare complessivo di 3 milioni e 800 mila euro nei confronti dei vertici di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali nel settore del commercio di Pellet. Il provvedimento cautelare è disposto dal GIP del Tribunale di Rovigo su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha diretto le indagini e che è stato emesso a conclusione di un'indagine che già nel giugno del 2020 aveva portato alla denuncia di 23 persone di cui 7 sottoposte a misure restrittive. Dopo gli arresti i militari del nucleo di polizia economico-finanziare di Padova hanno esaminato la copiosa documentazione contabile di 9 imprese amministrate di fatto dal promotore del sodelizio criminale radicato nella bassa padovana già condannato tra l'altro per associazione di stampo mafioso. Dopo l'analisi di oltre 130 rapporti finanziari intestati a diversi prestanome è stato possibile ricostruire la reale catena di controllo e quantificare il profitto tratto dalla fraude fiscale ottenuta grazie all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Si tratta di oltre 3 milioni e 800 mila euro. Sequestrati un'autovettura, 10 auto articolati, un piazzale adibito ad aria sosta per mezzi pesanti, un complesso aziendale operante nel campo della logistica e del trasporto di merci su strada e più di 40 mila sacchi di pellet per un controvalore al dettaglio di 200 mila euro.